Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Oggi hanno scelto il 4-5-1 con caratteristiche comunque piuttosto offensive. Cosielni. Sagnat. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. E nel rete! Un tiro preciso, il portiere non ha potuto nulla. Ci vogliono dei piedi delicati come i suoi per fare queste cose. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Occhio, si libera facilmente dal marcatore. Poco facile andargli via. Cabagli. Palla persa. Difrazzone capisce tutto sulla verticalizzazione. Palla liberata direttamente in out. Ferreira Carrasco. Pizzella. C'è spazio per andare. Lukaku. Griezmann. Una grandissima parata questa. Spazzano via il pallone. Palla che finisce in out. Digne. Martial. C'è il recupero del pallone. Cavanna. Ottima lettura difensiva. Palla che viene rinanciata in avanti. Vertonghen. Il pallone è uscito. Sarà rimessa. Vertonghen. Pizzella. Vince il contrasto e recupera il pallone. Martial. Nainggolan. Ferreira Carrasco. Prova a rubargli il pallone. Pallone in gioco. Attenzione. Buona la lettura difensiva che interrompe l'azione in un momento interessante. Ruba palla bene sulla fascia. L'appoggio di testa al compagno. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Recupera bene Pogba. Pizzella. l'arbitro indica il dischetto e mi sembra abbastanza incredibile che non abbia preso provvedimenti disciplinari. Anche secondo me questo era un intervento da punire severamente. non va. Terrore dal dischetto incredibile. Occasione d'oro mancata. Poi deve essere una buona opportunità ma hanno perso il pallone. Pogba. 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 conquistano un buon pallone al centrocampo. De Bruyne. Hazard numero. Sicuro. Il tapetto del portiere che va in presa. Griezmann. Attenzione. Spazzano senza problemi. Varane. Vigne. Nainggolan. Comane. Spezzato bene qui il gioco avversario. Hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Martial. E il portiere recupera il pallone. Vizzella. Cross pericolo. Ottimo intervento del difensore. Sagna. Interrompono bene l'azione allentando la pressione sulla difesa. Vigne. Occhio al suo movimento. De Bruyne. De Bruyne. Ha segnato ed è un pareggio meritatissimo. Siamo di nuovo in parità. Grazie al gol dell'1-1. Ci saranno due minuti di recupero. Lukaku. Così è lì. E si chiude. La Francia batte il calcio d'inizio nel secondo tempo. Vizzella. C'è la frateria per andare. Vizzella. Un gol pesantissimo. Possono festeggiare. La regia ci ripropone il gol. Da un'altra angolazione. Tutteggio cambiato. Ora siamo sul risultato di 2-1. Nainggolan. Vizzella. Mantengono il possesso del pallone con una buona serie di passaggi. Appoggia. Lì non c'è nessuno. Dunque rimessa per gli avversari. Cavanda. Riescono a recuperare il possesso. Ferreira Carrasco. Hanno una buona occasione. Fallo laterale. Matuidi. Comanda. Ci sono metri a disposizione. Ferreira Carrasco. Occhio alla percussione offensiva interessante. Molto interessante e molto spettacolare. De Bruyne. Conclusione senza angolo questa. Palla che esce. Touche. Rimessa laterale. Vertonghen. Asa. Palla in out. E dunque calcio in angolo. Spazzano via il pallone. E c'è il tiro. Sicuro. Intervento del portiere. Comand. Francia che si avvicina alla zona d'attacco. Comand. Palla di... Parte il tiro. Che gol. Splend in a rete. Gol ha nullato. Ma infatti l'arbitro ha già fermato l'azione per la segnalazione dell'assistente. Il giocatore non deve essersi accorto del fischio e ha proseguito l'azione. Pizzell. Pizzell. Comand. Cavanda. Nainggolan. C'è il recupero del pallone. Ha un'autostrada a disposizione. Griezmann. Company con il fisico. De Bruyne. Nainggolan. Ha un'autostrada a disposizione. Ha un'autostrada a disposizione. Kabaie. Lukaku. E c'è la presa sicura del portiere. Martial. Company. Pizzell. Lukaku. Grande parata. Super portiere. Sarà corner a disposizione. Buona la parata in presa da parte del portiere. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa. Calcio di punizione può essere l'ultima opportunità. Ammonito, il giocatore della Francia, può condizionarlo questo cartellino? Credo proprio di sì. Ora in avanti dovrà evitare altri interventi di questo tipo. Company. E il portiere fare il tuffo. De Bruyne. Occhio da Sarca e a manza. Sicuro il portiere. Buona la sua uscita. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Siamo nei minuti finali. Vogliono arrotondare il risultato. Occhio ai saltatori. Arriva il fisco finale dell'arbitro. Gara che si chiude sul 2-1.